Ma guarda secondo me nel momento in cui tu sei interessato all'altra persona in maniera molto più evidente ma senza fargliene capire al 100% mandi dei messaggi sbagliati e quindi alla fine ricevi quello che hai seminato tra virgolette. Ma aspetta ok stai già dicendo che una persona uno dei due è più interessato all'altro? Inizialmente è quasi sempre così perché comunque è difficile trovare una persona con la quale provi lo stesso tipo di interesse nella stessa quantità reciproca. Nello stesso momento. Nello stesso momento esatto perché a volte l'interesse cresce subito dopo aver visto l'interesse dall'altra parte. E quindi credo che sta tutto nei primi minuti in cui conosci l'altra persona. Se mandi messaggi sbagliati poi ricevi altrettanto altri messaggi sbagliati o perlomeno non sbagliati ma non quelli che vorresti ricevere. Ok quindi ci sono almeno due cose finora una persona che desidera l'altra più di quanto quell'altra persona desideri se stessa. In questo caso appunto un Claudio che desidera molto di più Silvia rispetto a quanto Silvia desideri Claudio. Inizialmente sì. Inizialmente e aggiungevi il fatto che Claudio non sia capace di mostrare come si deve questo suo interesse. Esatto trasmettere anche se non mostrare direttamente almeno trasmetterlo far capire farlo capire che quello che vuoi da quell'altra persona quello che vuole in questo caso da questa Silvia è molto più di un'amicizia ma inizialmente magari non lo fa per timore di essere rifiutato e quindi preferisce passare attraverso la strada più neutrale dell'amicizia con la quale rischia di meno il rifiuto perché è molto difficile che venga rifiutato come amico visto che io non ci sto provando con te però mi piace starti vicino. Quindi a partire da queste parole si potrebbe dire che la friendzone è una situazione in cui una persona interessata a qualcosa di più di un'amicizia chiamiamolo a una relazione sentimentale una persona interessata a una relazione sentimentale o sessuale comunque non solo di amicizia preferisce dire che è interessato o far capire che è interessato solo a una relazione di amicizia per non rischiare quel rifiuto che è l'altra cosa. Sì più che farlo capire non è proprio l'intenzione farlo capire ma dare l'impressione. Non c'è una cattività, non c'è una malizia almeno in questo esempio che portiamo non c'è stata una malizia da parte di Claudio da dire adesso me la faccio amica così. Esatto esatto no quello sarebbe molto più subduo, quello sarebbe più una situazione nel quale allora vedo questa ragazza è veramente bella e tutto vedo che è circondata da un sacco di ragazzi comunque sicuramente le attenzioni non le mancano io ci provo in un'altra maniera o per paura di essere rifiutato per la grande quantità di spasimanti che già ha va più sul sicuro cercando di attrarla sulla simpatia quindi essendo amichevole, parlandole da amico, avvicinandosi senza invadere il suo spazio personale comunque tutte cose che fa un amico in cui all'inizio magari si può anche una ragazza pensare che ci sia un secondo fine ma se lo fai un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni alla fine si convince che forse veramente vuole essere solo mio amico e quindi abbassa un po' le guardie e alla fine va a finire che però non viene più visto da lei, da questa Silvia come un uomo nel senso del potenziale ragazzo fidanzato esatto ma come un uomo amico che passa del tempo con lei con il quale si può sentire al sicuro senza stare sempre allerta del fatto che possa volerci provare con lei ok, quindi in tutte queste informazioni diciamo c'è un Claudio che di fronte a un alto numero di spasimanti, di concorrenti si passa anche lui, decide di entrare anche lui come amicizia all'inizio magari vede anche altre persone, giustamente se ci sono dei concorrenti che ancora non sono stati accettati anche loro forse hanno un atteggiamento, mi hai fatto pensare a questa cosa all'inizio anche una persona che non sarà frenzonata diciamo, una persona che mostra il suo interesse all'inizio questo interesse e il modo di mostrarlo è molto simile a quello che farebbe un amico ci possono essere gli scherzi, le battute eccetera la cosa interessante che c'era nel tuo discorso è quando questa situazione è prolungata per tanto tempo perché può esserci una persona, c'è un tipo di persona, non tutti gli uomini ma una minoranza che il loro modo di conquistare è effettivamente l'amicizia che diventa qualcosa di più o comunque questa base di confidenza un po' amichevole che però dopo poco diventa di più sì, il punto è che diventa di più nel momento in cui è l'altro a decidere perché sì, c'è questo rapporto di amicizia eccetera, diventate tutti e due amici ma tu dentro di te lo sai già quello che vuoi ok, allora qui si parla di nuovo, è vero, si parla di nuovo del generale, parliamo di Claudio sì, Claudio sapeva già cosa voleva dal principio quindi ha sbagliato secondo me ha sbagliato il tipo di approccio magari non l'approccio diretto perché comunque già avvicinarsi alla persona anche diciamo in questo caso che era una Silvia sconosciuta quindi non è che faceva parte della cerchia degli amici quindi abbiamo un Claudio che si avvicina a una Silvia che non conosce esatto e scambiano due chiacchiere questo è già un atto di coraggio esatto poteva anche restare sconosciuto che tra l'altro volevo aggiungere questa è una situazione che mi è capitata per tanto tempo direttamente ma neanche avere il coraggio di avvicinarsi neanche come amico per questo forse sono stato abbastanza fortunato da saltare per la fase di della Fendon per fortuna però diciamo che la fase iniziale di approccio ritengo che sia stata opportuna ma comunque è riuscito ad attirare l'attenzione è riuscito ad avere un rapporto di dialogo con lei il punto è che ha sbagliato nelle cose in cui ha detto nel modo in cui le ha dette secondo me perché sì tante ragazze vengono attratte dalla simpatia e dal ridere e tutto però una certa hanno bisogno di essere di sentirsi desiderate secondo me giusto è vero e non credi che l'abbia mostrato in quei giorni lì in cui l'ho visto io no ok probabilmente questo è stato l'errore io credo io credo che questo sia stato uno degli errori che ha fatto poi altri errori che possono succedere sempre prendendo esempio questo Claudio può anche darsi che una volta che si è instaurata questa specie di amicizia capitino dei momenti perché in ogni relazione capita un momento che puoi sfruttare per ribaltare la situazione un po' come negli scacchi però quando perdi anche quelle occasioni lì secondo me quindi ci sono state delle porte successive sì 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 esatto pochissime e veramente importanti perché è facilissimo sbagliare in un solo istante in cui c'è anche un silenzio di troppo e vi ritrovate da soli e perché non ha perché non ha colto io credo che sia sempre la paura dell'essere rifiutato sempre quella però mi chiedevo se magari a un certo punto non arriva anche o almeno così viene definita nei gruppi eccetera quando ascolti delle esperienze la paura di perdere quella quel poco che hai già sì per rischiare in quel caso pian piano diventa quello ma a maggior ragione la paura di essere rifiutato da una persona dalla quale sei già stato accettato in un'altra maniera penso sia peggio giusto 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 e come potrebbe essere invece una una soluzione se noi potessimo tornare indietro nel tempo e consigliare questo Claudio oppure se lo potessimo consigliare per una prossima Giovanna per esempio cosa cosa si potrebbe consigliare ah sembra abbastanza diciamo facile e una frase fatta ma essere più diretto e secondo me è la chiave essere più diretto con che timing però ma direttamente già da subito io direi in maniera anche abbastanza elegante e rispettosa non è che vai e dici uè bella figa così non è che funziona solo così attirare la sua attenzione e dimostrarle che sei interessato essere più diretto in cosa nel dimostrare l'interesse esatto una volta che hai attirato l'attenzione in maniera come dicevo abbastanza elegante magari senza essendo te stesso se tu sei uno che gli piace scherzare attiri la sua attenzione scherzando ma quando arriva il momento che hai la sua piena attenzione e tra l'altro glielo dici tra l'altro se c'è del vero interesse io immagino che ci siano dei momenti in cui potresti mostrarlo in cui proprio la cosa che ti verrebbe da fare sarebbe quella e il fatto le persone che non lo fanno in realtà stanno trattenendo qualcosa sì quindi non trattenere quella cosa lì esatto io credo che sia giusto diciamo accettare questo rischio perché è un rischio alla fine non è detto che solo perché sei diretto e fai come dovrebbe essere fatto tutto vada bene non è detto nulla è sicuro in questa vita a parte la morte quindi sì il mio consiglio sarebbe quello perché alla fine effettivamente anche un'altra frase che può sembrare una frase fatta ma penso che sia più brutto avere il rimorso di non averci provato che un fallimento esatto esatto assolutamente sul lungo periodo in ogni caso sul breve periodo si fa più paura ovviamente l'essere rifiutato un'ultima domanda a questo punto quindi le risposte sarebbero essere più diretti nel dimostrare interessi la mia a questo punto il mio consiglio sarebbe non nascondere proprio non nascondere che sottintendo un fatto che invece probabilmente lo hai fatto o lo faresti se poi capita in quella situazione lo fai nascondere l'interesse non farlo e dicevi rischiare anche accettare il rischio accettare il rischio perché alla fine ogni cosa è un rischio quindi sì magari pensi che una volta ricevuto quel rifiuto possa finire per sempre il tuo rapporto anche di amicizia che hai con lei ma io credo che in quel caso faresti lo stesso bene perché tu non cerchi amicizia da quella persona e quindi ti faresti solo del male a continuare ad esserle amica amico o dall'altra parte ci sarebbe comunque un'altra vittoria che otterresti quello che hai sempre voluto quindi in entrambi i casi c'è un pro ci sono anche dei contro ovviamente e secondo te questa sarebbe l'ultima domanda e poi possiamo possiamo chiudere secondo te come mai non l'ha fatto come mai non l'ha già fatto il suo è solo mancanza di informazioni perché tra l'altro quello che abbiamo appena detto o mancanza di esperienza perché quei pochi consigli che abbiamo detto non è che suonano come delle perle di saggezza che nessuno conosce anzi sembrano persino banali ma come mai guarda io in questo caso preciso di questo esempio che ti ho detto ti dico che c'entra molto anche l'aspetto sociale nel senso che ovviamente una volta che sei uscito una, due, tre volte con questa come amico hai conosciuto le sue amiche i suoi amici e tutto c'è una cerchia di persone che conosce già la situazione in cui sei e se ti sbilanci oltre non rischi di perdere solo una persona o perdere diciamo non rischi di fare quella brutta figuraccia che hai paura di fare non con una persona ma bensì con tutte le altre che hai già conosciuto che fanno parte della sua cerchia quindi in questo caso a un certo punto sicuramente si era creata una situazione in cui era un gruppo che si alla lunga esatto alla lunga ormai non era solo lei che era diventata amica sua amica sua però tante persone avevano accettato questa condizione lui avrebbe dovuto combattere contro tutto questo si esatto quello infatti man mano penso che più porti avanti una bugia più grande diventa e come mai all'inizio no? che cosa? come mai all'inizio invece non l'ha fatto secondo te? è stato è stato appunto prolungato per troppo tempo questo rapporto di solo amicizia scherzo e simpatia sì sì ma secondo te come mai cos'è che è successo? penso appunto sia stata la paura di essere rifiutato il rischio il rischio di essere rifiutato sì penso anch'io penso anch'io che sia stata la paura di che alla fine è quello che abbiamo tutti una grande paura esattamente ma in ogni ambito non solo in tanti ambiti e non solo quello sentimentale tra l'altro noi stiamo ci stiamo buttando anche in questo preciso momento davanti alla terzamera e provandoci con un'alta possibilità di rifiuto sì sì anche noi stiamo accettando il rischio e sì è comunque meglio farlo che non farlo esatto e sì credo che di nuovo l'errore sta nelle prime bugie che avrà raccontato questo Claudio a se stesso prima di tutto ma anche alla persona che era di fronte a lui questo primo non accettare e non ammettere il proprio interesse esatto non metterlo già dentro se stesso e quindi non dare la possibilità neanche agli altri di viverlo all'altra persona almeno e secondo me questo è qualcosa che potrebbe cambiare sì la cosa positiva è che diciamo la cosa positiva è che almeno dagli sbagli si impara quindi immagino che non ricapiterebbe esatto anche traslando questa esperienza sentimentale nel mondo ad esempio di internet dei podcast e dei video invece di aspettare per sempre per paura di un rifiuto provando a fare gli amiconi di internet sì ci abbiamo parlato per anni e non abbiamo mai avuto il coraggio ma al finale abbiamo buttato il rio adesso stiamo iniziando a far capire che c'è del vero interesse sarebbe ipocrita da parte nostra dirlo e poi non farlo quindi